Si è fatto carne ed è venuto agganizzare in mezzo all'ora. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo il gioco. Preghiamo. Dio Nipotente, per la forza misteriosa di questo sacramento, il tuo verbo fatto carne, che l'Apostolo Giovanni ha visto e annunciato, dimori sempre di noi. Dio Nipotente, per Cristo, il nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dio Nipotente, per la forza misteriosa di questo sacramento, benedica Dio Nipotente, Sanche e Pio, e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in parte. Preghiamo grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Dio Nipotente, per la forza misteriosa di questo sacramento, e la forza misteriosa di questo sacramento, grazie a Dio. 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 Grazie a tutti.